Mi chiamo Giorgia Pasolo, ho 9 anni e frequento la classe quarta della scuola primaria dell'Istituto Compressiva Mante. Abito in una città chiamata Fondi, che si trova in provincia di Latina, nella regione Lazio. Sono una bambina curiosa, buona e sensibile, ma quando mi arrabbio a volte sono pericolosa. Banda Luciange, mi tengo a farti sapere che quest'anno sarà un Natale triste perché ho perso la mia carissima nonna a cui volevo bene. Quindi sotto l'albero vorrei trovare tanta gioia e serenità, ma soprattutto ti chiedo di proteggere la mia famiglia dalle malattie. Inoltre ti chiedo di far venire la pace nel mondo. So che tu accontenti i bambini buoni, ti aspetto. Ho dimenticato, io non ho il cammino, puoi andare dalla finestra, ma occhio, potresti cadere sui miei giocattoli. Sui miei giocattoli. Tu a Giorgia Pasolo, per sé un bacione. Ti voglio dire. Bravo! Grazie.